Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TV Siti in apertura. La cronaca monta oltre 5 milioni di euro, la truffa ai danni dello Stato scoperta dai carabinieri del comando provinciale con l'ispettorato del lavoro. Hanno passato a setaccio numerose istanze di reddito di cittadinanza, tutte revocate, erano intestate a truffatori, parcheggiatori abusivi, camorristi e loro parenti. Ancora cronaca, truffe ai danni di anziani scoperte nel Napoletano, le indagini sono state condotte dagli agenti di polizia di Castellammare di Stabbia e Torre del Greco. Si svolgeranno domani nella chiesa di San Ciro i funerali dei due studenti uccisi ad Ercolano nella notte tra giovedì e venerdì a celebrare l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Poi l'emergenza sanitaria, entro novembre terza dose per il personale scolastico. Questa mattina un incontro a Palazzo Santa Lucia per programmare con le aziende sanitarie la vaccinazione. In chiusura siamo a Torre del Greco, domani 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Non mancherà la cerimonia in villa comunale, questo ed altro. Guardiamo i servizi. Truffere anziani nel napoletano, pregiudicato, finisce in manette. Si tratta di RV di 41 anni, residente a Napoli. L'uomo è accusato di truffa aggravata in due distinte occasioni ai danni di altrettanti anziani. Questa mattina gli agenti dei commissariati di Castellammare di Stabbia e Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura. Le indagini relative al primo episodio sono state condotte dal personale della squadra investigativa Stabbiese dopo la denuncia della vittima, un'anziana che aveva offerto agli inquirenti dettagli di rilievo per individuare il modus operandi del truffatore. La polizia è poi riuscita a risalire ad un'altra truffa che aveva avuto come sfortunata protagonista sempre una persona anziana. L'indagato, stando alla ricostruzione della polizia, avvalendosi della complicità di altri soggetti non ancora identificati, aveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per il nipote e inducendo la donna a consegnare ad un sedicente corriere soldi e gioielli per la considerevole cifra di 50.000 euro. L'incrocio delle dichiarazioni dell'anziana con le immagini estratte dai circuiti di viso e sveglianza privati e comunali, presenti nel percorso che la stessa aveva effettuato per recarsi in banca per elevare parte della somma, ha consentito di cristallizzare la consegna di una tranche al truffatore e di identificarlo. Presso la sua abitazione, durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti gli stessi abiti indossati al momento del fatto. Le risultanze investigative acquisite in relazione ai fatti avvenuti a Castellammare nel novembre 2019 hanno permesso di ascrivere sempre ad RV un'altra truffa, verificata si stavolta attore del greco, che aveva prodotto un danno di 5.000 euro alla malcapitata di turno. Gli agenti del commissariato di Via Marconi, anche in questo caso grazie alla visione dei filmati estrapolati dai circuiti di viso e sveglianza privati e comunali installati nel percorso effettuato dall'autore della truffa, hanno individuato un motociclo con targa straniera a bordo del quale il 41enne sarebbe giunto nella città vesuviana e sul quale l'indagato è stato fermato e riconosciuto come soggetto ripreso dalle telecamere. Le indagini si inseriscono nell'ambito della più ampia e articolata attività investigativa, posta in essere dalle forze dell'ordine sotto il coordinamento della procura, finalizzato ad arginare il crescente fenomeno delle truffe commesse ai danni di persone anziane. Ammonta oltre 5 milioni di euro la truffa ai danni dello Stato, scoperta dai carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Ispetturato Lavoro di Napoli, che con l'Inps hanno passato al setaccio un imponente numero di stanze di reddito di cittadinanza e scoperto 2.441 posizioni irregolari che sono state tutte revocate. Molte sono risultate intestate a camorristi, a loro parenti, a parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. I denunciati sono 716, 422 con pregiudizi penali, 64 per associazione mafiosa. Dal mese di giugno i militari dell'arma sono impegnati in una campagna di controllo e verifica sulla legittimità della percezione del reddito di cittadinanza. Dalle verifiche effettuate sono emerse molteplici irregolarità che hanno portato ad arresti e denunce in varie parti del territorio. Molti casi eclatanti, tra questi quello di un 46enne di Castellammare di Stabbia, già noto alle forze dell'ordine, che si è recato all'ufficio postale di Via Plinio, il Vecchio, presentando una carta d'identità bulgare, evidentemente falsa e simulando addirittura un accento straniero che di balcanico aveva ben poco, ha tentato in vano di ingannare l'operatore dello sportello per ottenere una tessera per il reddito di cittadinanza. Il suo trucco è stato smascherato ed è finito in manette. È dal 7 aprile 2020, invece, che un 41enne di Cardito percepisce puntualmente ogni mese il reddito di cittadinanza, pur essendo agli arresti domiciliari, ha presentato istanza, ha ottenuto il contributo pensile e per oltre un anno e mezzo ha ricevuto indebitamente denaro dallo Stato. Non avrebbe dovuto perché è destinatario di un provvedimento giudiziario, ovviamente non dichiarato nel form di richiesta. Ora ne dovrà rispondere penalmente, il reddito gli sarà revocato e oltre alla misura di domiciliaria avrà pendente una denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra i denunciati, la maggioranza italiana. Dei 716 segnalati alle procure sono 673 i connazionali richiedenti, mentre solo 43 gli stranieri, 394 gli uomini, 322 le donne. Un danno erariale impressionante. Dal venditore ambulante di calzini al rapinatore, dal garzone del bar, al familiare del camorrista e al camorrista stesso. Tra le centinaia di denunce fatte dai carabinieri, spuntano anche persone legate alla criminalità organizzata. I militari hanno indicizzato i percettori in base ai reati commessi. Tra le macro-categorie prese in esame, i nuclei familiari di persone con precedenti di polizia per truffa, per rapina e quelli che al loro interno annoverano soggetti destinatari di misure cautelari e personali. Sarà l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, a celebrare i funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di 26 e 27 anni di portici, uccisi a colpi di pistola, la notte tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, ad Ercolano, da Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni, accusato ora di duplice omicidio volontario. Le seque prenderanno il via alle 15.30 nella chiesa di San Ciro. Le salme giungeranno alle 14 per la Camera Ardente. Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha proclamato il lutto cittadino. Palumbo aveva il porto d'armi per la caccia e un porto d'armi per uso sportivo, ma non per la difesa personale. Il particolare emerge dagli approfondimenti fatti dai carabinieri e dalla Procura di Napoli, nell'ambito delle indagini sulla morte dei due ragazzi. Secondo le norme italiane in materia d'armi, la licenza per uso sportivo consente di caricare l'arma da fuoco e sparare solo al poligono di tiro. In casa deve essere scarica, come lo deve essere anche durante il tragitto predeterminato verso il poligono di tiro. Intanto oggi, alle 16, nel secondo Policlinico di Napoli, si terranno gli esami autoptici. I sostituti procuratori Luciano D'Angelo e Daniela Varone, secondo quanto si è appreso, dovrebbero chiedere il rito immediato nei confronti del camionista. Entro novembre terza dose a tutto il personale scolastico. Nel corso della riunione convocata oggi a Palazzo Santa Lucia dal presidente Vincenzo De Luca, è stato dato mandato a tutti i dirigenti delle AS e delle aziende ospedaliere di programmare prioritariamente la vaccinazione con terza dose booster a tutto il personale scolastico e universitario, che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione. Si tratta di un piano straordinario di vaccinazione di massa che va portato a termine già entro il mese di novembre. Con la terza dose, ha dichiarato il presidente De Luca, è stata già completata la vaccinazione per tutto il personale dell'RSA. Contestualmente al personale scolastico si continuerà a completare la vaccinazione con terza dose a tutto il personale sanitario e ai pazienti fragili, ma occorre entro novembre di chiamare alla vaccinazione tutto il personale scolastico e universitario. L'obiettivo è garantire la piena tutela della popolazione scolastica dove insiste il maggior numero di non vaccinati dai 15 anni in giù, un pericoloso canale di contaminazione non solo per studenti e docenti, ma anche per le famiglie. È l'unico strumento per non dover chiudere le scuole nei prossimi mesi. Si svolgerà domani 4 novembre alle ore 10.30 presso il Monumento Civile della Casa del Combattente nella Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele un momento celebrativo e commemorativo in occasione della Giornata Nazionale dell'Unità e delle Forze Armate per ricordare il valore eroico ed il sacrificio umano delle innumerevoli vittime dell'eccidio bellico durante gli anni della Grande Guerra. L'evento si terrà in modo sobrio e contenuto in considerazione delle vigenti normative di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 e vedrà la presenza oltre che dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra anche dei vertici militari delle Forze dell'Ordine Territoriale e dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni Palomba che per l'occasione offrirà la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti. A coronamento dell'alto momento istituzionale scandito dal solo suono della tromba il primo cittadino procederà poi allo scoprimento di una lastra di marmo bianco posta sulla facciata dello storico e restaurato edificio Casa del Combattente celebrativa della ricorrenza del Centenario di Milite Ignoto al quale l'Amministrazione Comunale della Città di Torre del Greco ha conferito la cittadinanza onoraria. Il 4 novembre le parole del Sindaco Palomba rappresentano un giorno importantissimo per la nostra memoria storica e per la coscienza identitaria dell'Italia intera. Quest'anno si unisce un'altra importante ricorrenza ovvero il Centenario del Milite Ignoto il cui valore è etico sociale e culturale abbiamo il dovere di trasmettere e consegnare ai nostri giovani affinché mai più possano ripetersi gli eccidi di cui l'umanità nel corso della sua storia si è purtroppo macchiata. Abbiamo con prontezza accolto l'invito a conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto quale espressione di profonda solidarietà umana verso la memoria dei nostri caduti senza riconoscimento e di tutti quelli che hanno offerto la vita per la causa della nazione. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvc.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani. per anche la visione